Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di oggi, siamo tornati su Minecraft Ita per la serie Cosa succede se... è una serie che sta andando avanti da diverso tempo, visto che vi piace un sacco e quindi, attenta, la ripropongo anche oggi Che cosa andiamo a fare? Allora, 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 come ben sapete, gli enchant si possono aumentare in maniera vertiginosa, una cosa incredibile e potremmo addirittura provare a fare enchant tipo efficienze di livello estremo Infatti oggi andiamo a parare proprio una cosa del genere, un'efficienza di altissimo livello per vedere effettivamente quanto riusciamo a scavare velocemente La combineremo anche a Neist, che è quello, diciamo, l'effetto del bigo, Neist 2, che serve per scavare più veloce Quindi ragazzi, adesso andiamo a fare un comando slash give, chioccio la P per indicare il giocatore Un diamond, Minecraft diamond, 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 axe, block, boots, chestplate, helmet, horse armor, leggings, ore, pickaxe Ci mettiamo poi gli enchant Eccolo qua ragazzuoli, efficiency 10 per ora, piccone molto semplice, faccio vedere il comando Give, chioccio la P per indicare il player, Minecraft diamond, pickaxe, 1, 0 sono la quantità Enchant, id 32 per efficiency, livello 10 Vediamo un po' quanto scava veloce questo Scaveremo sicuramente più veloce della creative, ve lo assicuro Game mod 0, vediamo un po' Allora, parliamone Parliamone, è sicuramente un buon livello di mining Cazzo, è un livello di mining estremo Vi rendete conto? La sprint sembra scioglierla sta roba Ok, bene, abbiamo scavato un tunnel print in 30 secondi Se si potesse aggiungere sta roba su Minecraft, io sarei una versione del cliché del mondo però Va bene, va bene, va bene Figata, figata, notevole, figata, notevole A questo punto prenderei una chest E ci metterei dentro tutti i vari picconi, picconcini Che prenderemo nel corso del tempo Quindi buttiamo questo qua Ci cleariamo l'inventario E a questo punto potremo passare a un'efficiency di livello 50 Molto più forte E molto 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 più distruttiva Torniamo in game mod 0 E adesso ammiriamo la potenza dell'efficiency 50 Allora, effettivamente c'è un miglioramento notevole in questa efficienza Perché davvero spacca a livello molto molto più forte Si usura anche molto più velocemente Non male, non male come piccone anche questo Davvero un piccone che... Cazzo... Efficiency 10, efficiency level... Ovviamente non lo legge più A 10 ci arriva x che sarebbe 10 Poi il resto non lo fa Clear Ok, potremmo passare a questo punto A un'efficienza un pochettino più sostanziosa Che sarà 100 Efficiency 100 Vediamo un po' come si presenta il piccone efficienza 100 Allora, effettivamente si presenta sicuramente molto bene Riesce a scavare una quantità di blocchi in... Cioè... Vi rendete conto che abbiamo fatto? Questa è la potenza di un piccone efficienza 100 Di scavare davvero all'infinità di blocchi in pochissimo tempo A questo punto proviamo a fare il passo un po' più grande 500 Vediamo un po' E anche questo vabbè scava veramente una cosa che è disumana Perché poi guardate se scavate Cioè potete riuscire a scavare una quantità di blocchi... Ah questa è dirt Non riesce a scavarla per bene Ecco qui è dove c'eravamo fermati prima E vediamo un po' continuando a scavare verso il basso Cioè vedete, cadiamo da quanto è forte sto piccone Cioè da quanto riesce a scavare velocemente in basso Riesce a creare tipo 20 blocchi con un soltanto click Cioè si scava più di 20 blocchi con un solo click E poi ovviamente Ovviamente viene... Tu cadi oltre 20 blocchi e mori male A questo punto vorrei però provare una cosa Un muro d'ossi... Quanto ci metto a scavare una pillar di ossidiana con i vari picconcini Perché effettivamente quale metodo migliore per verificare Cioè verificando con l'ossidiana Se quanto ci mettiamo a scavare il tutto con l'ossidiana Qual è il più veloce Quanto tempo effettivamente passa Da efficienza 10 a efficienza 500 Ok ragazzi, soli ci siamo Efficienza 10 Eccola qua Partiamo Andiamo a vedere Allora è molto molto veloce Dà davvero una consistenza di scavo Veramente veramente notevole Scava molto forte Andiamo all'efficienza 50 Neanche la vedi Cioè da 10 a 50 neanche la vedi Vabbè A sto punto è one click One destroy 500 Questo è... Cioè Scavo l'ossidiana Così Non posso fare... Cioè Oddio Vi rendete conto? Cioè quella cosa monstruosa 63 blocchi d'ossidiana scavati in... Prende pochissimo tema Così ci abbiamo messo pochissimo E' fotonico E non davvero non saprei minimamente che altro scavare Per dire che cazzo E' una trivella Riesce a distruggere il mondo A questo punto non ci resta che provare Alla fine l'unica roba di quelle... Cioè Manca una cosa soltanto Eccolo qua Cioè Wow Che presi Vabbè Non riesce a andare Non fare tempo a scavare Che questo è già scavato Cioè Non riesce a fare Non fai in tempo a muoverti Che lui già ti ha scavato il mondo Io riesco a riuscire a scavare una collina A vero In pochissimo tempo Se andassi poi ordinato Sarebbe veramente una cosa mostruosa Scavo stack su stack Senza rendermene conto Ora Non so a quanto arrivano I cosi Effettivamente Perché Devo essere sincero Non lo so Adesso Posiamo questo coso E proviamo 999.000 No 9999 Clear Vediamo un po' Anzi Aggiungendo un altro 0 Ok Riesco Efficienza 10.000 Efficienza Ok Che non cambia niente Però Vi giuro E' qualcosa di Anormale Cioè Sto piccone Guardate che spettacolo Quello è il tunnel fatto di prima Wow Ok Mi è venuto fuori In piccone strano Vediamo un po' No Game mod 0 Mi è venuto strano Su piccone Efficienza Ma guardate voi E' strano E' efficienza Ok Quindi ho raggiunto Probabilmente il limite massimo Di roba che posso fare io Se io faccio così Così Tac 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 Probabilmente questo piccone No Ok Ancora Questa efficienza Devo vedere Effettivamente qual è il punto Limite dell'efficienza E metterlo Qua perché Ok Vediamo un po' Questo Ok 2 4 Vediamo un po' Questo Ok Ancora questo è forte Ma non è paragonabile A quest'altro Vediamo un po' Perché quanto ha 24.464 Ah ok Molto più Forte di questo Eccolo qua ragazzuoli Sono riuscito a fare un piccone 30.000 di efficienza E Vabbè ok Non c'è nient'altro da dire 30.000 di efficienza E questa roba qua Riesce a Distrugge Ma tanto L'efficienza Non si nota Dopo un po' Cioè Non ti cambia Non possiamo Distruggere Il blocco più duro Dell'ossiliana Non c'è Quindi non possiamo Neanche testarlo Pesantemente Questo piccone E quindi Non è che Non troviamo Ovviamente Grande giovamento Però notiamo Soltanto Che questa è una roba Immane Immonda L'unico che cosa Che mi era venuta In mente Da fare E rimettere qui Il 3 E poi non fare Diamond Ma fare Wood Non me lo prende Wood pickaxe Wood and pickaxe Quanto dura Secondo voi Cioè A parte che sarà Veloce Lo stesso Perché ovviamente Lo riesci a utilizzare A coste L'efficienza È fantastica Però poi Tipo Ti distrugge Subito È un pickaxe Mono uso Ovviamente Ti fai il tuo Stacchino veloce E poi ti si distrugge Ma vi voglio far vedere Quanto va giù Veloce l'efficienza Guardate Waaaaa Cioè Prima Non usate 30 secondi Ma manco Qualche secondo Il piccone Meraviglioso Veramente Veramente Una figata Mi è piaciuta Un sacco Sta roba Degli enchant Cioè Pesanti Proprio A livelli Infiniti Fotonico Poi possiamo Ovviamente mixarli L'enchant Però non c'è Bisogno per ora C'è far sta roba Sembra di stare nei server Negli OP price A un tipo Che fate il casino Più totale Beh con questo potete farlo Ragazzoli Non ci resta che provare Ad utilizzare i picconi Con efficienze A limite In combo Con haste 2 Del beacon Effetto che dà il beacon Quindi Vediamo un po' Che cosa può succedere Utilizzando questa roba qua Magari riusciremo Ad utilizzare Chissà che cosa Strana Particolare No vabbè Non so Quante efficienze Effettivamente Potremmo ritrovare Haste aiuta parecchio Mi ricordo Haste davvero Aiutava un sacco Per quanto riguarda Il casino Per scavare Faceva davvero Casinata Beaconator Completiamo il tutto Ci mettiamo uno di questi Mettiamo haste 2 Beam Quindi adesso Dovremmo avere haste 2 Perfetto Abbiamo haste 2 Beacon completato A massima forza Ci rimettiamo In game mode 0 Prendiamo Il piccone Efficienza 3000 E 30.000 Scusate E vediamo se c'è differenza Ma Sapete Che la differenza Ovviamente Quando si fanno Ste cose Minima Cioè Scava una cosa Veramente Disumana Per carità Io non capisco Come cavolo Uno possa fare Una roba del genere State vedendo niente No Non state vedendo niente Mentre un attimo In game mode 1 Mi prendo Un paio di gap Perché qui Se no Possiamo Moriamo malissimo Intanto Questa la mettiamo Su quest'altra mano Che ci fa luce Ci prendiamo Ci prendiamo Le golden apple Quelle pesanti Così posso Mangiare tranquillamente Non rischio Di morire malissimo Tipo Ecco Bravissimo Mangia di qualcosa Andiamo in giro A spaccare malissimo Qualsiasi cosa Ci capiti sotto mano Con questo piccone Catto che ho anche Assorbimento Possiamo Wow Vai giù Giù Scava tutto Scava tutto Veloce Vai 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 Butta Ok Quando c'è da terra Dobbiamo ovviamente Ritirarci Però possiamo arrivare A scavare Tunnelli Infiniti Incredibili Con ancora Laced attivo A parte Laced si dirà Wow No 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 Qui moriamo Ok Ho resistenza anche al fuoco Vero Mangiamo un'altra gap Mangiamoci Non posso però rompere Purtroppo La bedrock E ovviamente Non si riesce a romperla La bedrock Potreste stare qui A scavare l'evo Guarda Scava veloce Eppure Purtroppo Questa è una cosa Che non possiamo rompere Però davvero È Fotonico Davvero fuori dal normale Un picco nel genere Cioè mi coglione Che fuori dal normale Non si può ottenere Però Molto molto figa Come cosa Certo Arrivati Efficiency 10 Io mi accontenterei Perché vi giuro Sarebbe una figata Poterlo fare in vanilla Sarebbe Gigi Tanta roba Non si può fare Vabbè Ragazzi Penso che per questo video Posso tranquillamente Assoluto Vi ringrazio tantissimo La visione Lasciate un mi piace Se il video è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete fatto Di condividere il video Su Facebook Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook Instagram E Telegram Ci siamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi